a Martedì primo marzo buongiorno a tutti e bentrovati anche questa mattina per l'appuntamento delle sette in diretta con la rassegna stampa tra poco andremo sui quotidiani di oggi per dare un'occhiata alle notizie principali ai titoli di apertura dedicati ancora alla crisi e alla guerra in Ucraina prima di andare sulle prime pagine dei quotidiani nazionali poi la stampa locale andiamo sul sito internet dell'ANSA sull'home page ecco la foto che c'è in questo momento in apertura la foto di un convoglio russo lungo 60 km in viaggio verso Kiev lo vediamo proprio in questa foto dall'alto un convoglio militare intanto ieri c'è stato il primo round dei colloqui con Mosca è previsto un altro incontro nei prossimi giorni e questa l'ultima ora la notizia in primo piano sull'agenzia ANSA sugli altri siti dedicati all'informazione andiamo ad esempio sulla stampa vediamo questa foto che poi vedremo anche sui quotidiani di oggi bombe a grappolo su Kharkiv missili russi e colonna di 60 km di mezzi su Kiev il sindaco ha detto siamo sotto attacco non stop dall'unione europea in arrivo 70 caccia questi un po' gli aggiornamenti alcuni non proprio dell'ultima ora ma adesso andiamo sui quotidiani locali anzi scusate sui quotidiani nazionali e andiamo a vedere le prime pagine della stampa nazionale ecco ecco qua il Corriere della Sera innanzitutto si tratta sotto le bombe titola il Corriere in apertura e poi andiamo a leggere anche il sommario incontro Kiev Mosca ma Putin detta le condizioni sanzioni pesanti effetti sull'economia russa e nuovi raid sulla capitale vediamo anche gli altri approfondimenti di spalla dal governo il sì all'invio di armi dal governo italiano oggi il passaggio in parlamento e poi gli effetti sui mercati crolla il rublo le borse tengono e poi vediamo una foto in primo piano a centro pagina la strage dei bambini scrive il Corriere della Sera andiamo anche su Repubblica diluvio di fuoco sulle città titolare pubblica che poi mette in primo piano le due foto dei colloqui di ieri e poi della città di Kharkiv bombardata e distrutta nel primo giorno di colloqui tra la delegazione russa e ucraina il Cremlino detta le condizioni sovranità sulla Crimea e smilitarizzazione del paese l'offensiva si intensifica contro i civili almeno 352 i morti 14 bambini il generale Graziano dice che ha scatenato l'invasione è nemico dell'Europa le sanzioni congelano le riserve in valuta di Mosca gli alleati Putin isolato e inestabile questa la prima pagina di Repubblica ancora andiamo anche sulla stampa dove vediamo due delle foto che abbiamo visto prima anche sul sito internet della stampa l'orrore con i raid e i missili nel giorno della trattativa i russi ci sono margini per l'accordo hanno detto ieri e poi la speranza con questi nuovi bambini nati nelle ultime ore a Kharkiv bombe a grappoli sui civili dice anche il reportage che troviamo oggi sulla stampa andiamo a vedere il manifesto non c'è pace titola il manifesto in apertura sotto le bombe russe incontro interlocutorio a Gomel in Bielorussia Zelensky chiede il cessate il fuoco e firma la procedura speciale di adesione all'Unione Europea che risponde picche scrive il manifesto Putin alza il tiro la Crimea e la neutralità di Kiev queste richieste della Russia tra due giorni nuovo incontro fine dell'anima pacifista Bruxelles invia armamenti e l'Italia si adegua sanzioni dure nello sport la Russia è fuori dalle gare internazionali ancora andiamo anche sul giornale Putin tratta e bombarda scrive il giornale che sceglie così come ha fatto anche Repubblica di affiancare due foto quelle del tavolo per le trattative per raggiungere un accordo tra Russia e Ucraina e poi quella in un locale distrutto dai bombardamenti negoziati difficili al tavolo per il cessate il fuoco Mosca chiede la Crimea e un'Ucraina neutrale ma punta a dividere il paese in due intanto attacca con missili i centri abitati no all'ingresso di Kiev nell'Unione Europea ma Europa e Italia mandano armi su Libero ci armiamo era ora scrive Libero sanzioni e cannoni il governo cambia rotta sull'esercito con l'Europa inizieremo a investire sulla difesa l'invasione ci ha fatto capire che la nostra libertà non è gratis tra i partiti però è scontro Mosca fissa le condizioni per la pace vuole Kiev disarmata e neutrale e poi vediamo anche qui le trattative partono sotto le bombe scrive anche Libero andiamo sul fatto quotidiano Kiev si spara e si spera armi dall'Italia per un anno inizia il negoziato poi ripartono i bombardamenti russi l'Europa si riarma Putin chiede neutralità del paese e la Crimea Zelensky vuole l'Unione Europea la spesa militare vola Draghi nuovo stato d'emergenza e non si collega con Macron e company chiudiamo anche il fatto quotidiano e andiamo a vedere adesso la prima pagina della verità vediamo in apertura anche qui le forniture di armi da parte di alcuni paesi europei all'Ucraina con i venti bellici crescono gli appetiti scrive la verità ora D'Alema si butta sulle armi ci sono 80 milioni da spartire l'ex premier fa l'intermediario per una vendita al ministero della difesa colombiano di 4 corvette e 2 sommergibili prodotti da fincantieri e di alcuni aerei di Leonardo intercettato spiega come scavalcare il governo italiano nelle trattative tutto questo negoziato deve passare tra di noi attraverso un solo canale queste le parole intercettate ancora andiamo a vedere a centro pagina non sono tutti impazziti si tratta ma Roma invia missili e mitragliatrici scrive la verità ancora andiamo a nord est con la prima pagina del gazzettino spiragli di pace sotto le bombe titola il gazzettino il negoziato in Bielorussia Mosca e Kiev trattano alla pari ma i combattimenti ancora non si fermano effetto sanzioni la guerra costa a Putin 350 miliardi anche l'Italia in campo missili e munizioni all'Ucraina e poi vediamo il piano energia gas razionato per fare scorta per il prossimo inverno e poi dal calcio al basket al bando tutte le squadre russe la questione profughi se la crisi si aggrava dice il governatore del Veneto Zaia potrei chiedere le seconde case il governatore in Veneto già pronti 500 posti in ospedale e poi vediamo i primi arrivi a piedi in auto in pullman la meta diventa il nordest poi andremo a sentire anche alcune voci raccolte proprio al confine fra Friuli Venezia Giulia e Slovenia principale porta d'accesso all'Italia dei profughi provenienti dall'Ucraina ancora cambiando argomento il nuovo vaccino contro il covid il Novavax in Veneto scarso interesse per il nuovo vaccino e il gazzettino titola il grande flop di Novavax 83 mila dosi e 989 prenotati e poi vediamo il boom dell'azienda di Padova che produce tamponi ricavi cresciuti del 500% chiudiamo anche il gazzettino e vediamo anche la prima pagina del foglio che titola così in apertura mandare Putin nel pallone e poi analizza i diversi aspetti di questa crisi di questa guerra con l'analisi aggiornata della situazione il quinto giorno e poi ancora lo sport caccia ai russi l'economia in ginocchio e via via tutti gli altri temi trattati il sole 24 ore apre con la foto del tavolo delle trattative e il titolo di apertura è parte il dialogo ma l'attacco continua e poi vediamo il crollo del rublo e la borsa di Mosca chiusa questi i principali effetti sui mercati economico finanziari chiudiamo anche il sole 24 ore e andiamo adesso sulla gazzetta dello sport vediamo anche qui i titoli principali in apertura c'è la Coppa Italia con il derby di questa sera tra Milan e Inter ecco qua derby grasso titola la gazzetta dello sport nel giorno appunto di martedì grasso pioli e inzaghi nel martedì del carnevale alla ricerca del sorriso perduto comincia un duello totale questa sera a San Siro la semifinale d'andata di Coppa Italia si inizia alle 21 una gara che inciderà anche sul campionato scrive la gazzetta con Valdini e Zanetti sventolano le bandiere e San Siro da 96 anni racconta una favola rimanendo sul calcio giocato vediamo il risultato del posticipo di campionato di ieri sera che ha chiuso la 27esima giornata con l'Atalanta che travolge la Sampdoria Atalanta travolgente che poker alla Samp andiamo nel taglio basso adesso dove troviamo invece le conseguenze della guerra sul mondo sportivo Russia fuori dal mondiale scrive la gazzetta UEFA e FIFA fermano club e nazionale niente playoff per quanto riguarda la Champions no a Gazprom tutto lo sport contro l'invasione dell'Ucraina nel basket non si gioca Milano Kazan la Polonia dunque qualificata direttamente alla finale del mondiale affronterà la vincente dell'altra semifinale Repubblica Ceca Svezia chiudiamo la gazzetta dello sport e spostiamo adesso la nostra attenzione sui quotidiani locali andiamo a vedere assieme le aperture di piccolo messaggero veneto Gazzettino cominciamo con il piccolo di Trieste e vediamo che anche qui in apertura si tratta tra le bombe questo il titolo comune che abbiamo visto su tante prime pagine dei quotidiani di oggi Putin Crimea Russia e Ucraina neutrale ripartono i raid anche bambini tra le vittime e poi vediamo di spalla i racconti di chi è scappato e fuggito verso aree più sicure da sola a piedi fino in Polonia lì è pieno di gente che dà passaggi e poi ancora mio marito un idraulico partito da Trieste per il fronte abbiamo detto di continui arrivi anche nella nostra regione di profughi provenienti dall'Ucraina allora andiamo a sentire il servizio si intensifica ora dopo ora l'arrivo di profughi dall'Ucraina qui al confine di Fernetti sul Carso Triestino primo approdo per auto private e pullman guerra cosa ha visto lei tutto tutto come si dice aereo bomba serena tutto 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 rovinato e voi cosa avete vissuto cosa avete visto è terribile queste notizie veramente adesso non ci credo che questo può essere in realtà io aspetto tempo che adesso io mi sveglio e questo tutto solo incubo a bordo soprattutto donne badanti e assistenti familiari ma anche studentesse bambini neonati persone destinate in altre zone d'Italia o in altri paesi europei perché gli uomini anche quelli più giovani sono dovuti rimanere in Ucraina a combattere proviamo a girarci guido a chiedere anche come vedete tanti bambini neonati anche bambini bambini piccoli tanti problemi abbiamo bisogno di tutti 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 italiani romani tutti tutti perché da solo non possiamo fare aiuto tutto aiuto cibo case documenti non possiamo fare niente da dove venite che città città Ivano-Francovsk Ucraina Ivano-Francovsk qui hai lavoro in Italia Italia Reggio Emilia per gli autobus che arrivano dopo due giorni di viaggio una vera e propria odissea tra le lunghe code in Romania e l'angoscia a bordo per chi attende notizie da chi è rimasto in patria sì un missile è esploso vicino alla mia casa i miei genitori stanno vicino all'aeroporto di Vasilikov che è stato bombardato e ora stanno rintanati da tre giorni sotto casa nelle cantine addirittura i bambini a Kiev preparano bombe molotov per aiutare l'esercito a difendere la città tra i pullman arrivati al confine sull'altopiano carsico anche uno diretti in Spagna qui donne e bambini perché gli uomini sono in Ucraina in guerra uomini non c'è uomini nostri tutti preso tutti andati in guerra sta luchando para sopravvivir in Ucraina e para ganare e para ganare e vamos a ganare e vamos a ganare vediamo guerra in Friuli i primi profughi a San Vito al tagliamento ospiti in un BNB padre madre due figli in quattro giorni di viaggio sono fuggiti attraverso la Polonia lui autista lei infermiera accolti dalla madre badante arrivi anche a Udine da Odessa attraverso la Romania vediamo poi di spalla Federica al lavoro per i rifugiati e il caro energia ancora sempre sulla prima pagina del gazzettino a proposito di caro energia vediamo sempre di spalla dopo l'acciaio ora rischia di fermarsi anche il legno in questo caso per la mancanza di materie prime e pittini che nei giorni scorsi aveva bloccato la produzione forni riaccesi dopo lo stop di tre giorni a centro pagina una fotonotizia una parte del lascito dei mobili dei ciceri in magazzino dal 2013 e rischia di finire male per colpa dei tarli i tarli si mangiano i mobili dei ciceri e poi vediamo la cronaca la baby squillo sbaglia fotografia arrestato per errore revocati i domiciliari al dirigente di polizia a scagionarlo anche il tatuaggio di un delfino arrestato per un clamoroso errore uno scambio di persona basato su un riconoscimento fotografico da parte di una ragazza che si prostituisce online da ieri pomeriggio Giovanni Belmonte funzionario della questura di Udine è libero per quanto riguarda la cronaca cade da 5 metri e si frattura le gambe l'incidente è avvenuto ieri mattina a tramonti di sopra nel taglio basso chiusa la cava l'amianto da smaltire è un problema e poi ancora malattie rare in regione i pazienti in cerca di cure sono 40.000 chiudiamo il gazzettino e andiamo adesso sul messaggero veneto poi torneremo sulle pagine sportive del gazzettino per dare un'occhiata anche a queste notizie ma adesso andiamo avanti con la cronaca e vediamo sulla prima pagina del messaggero veneto di Udine in apertura la notizia che abbiamo appena visto anche sul taglio centrale del gazzettino non era lui Belmonte è libero identificato tramite una foto da una ragazza all'epoca quindicenne il dirigente era stato arrestato e sospeso dalla polizia a Udine la difesa scambio di persona non c'è stata prostituzione minorile non era lui l'uomo che la ragazza pordenonese che nel 2018 all'epoca dell'appuntamento sessuale a pagamento concordato con un cliente a Bologna aveva appena 15 anni credette di riconoscere in fotografia tra quelle che le furono sottoposte dalla polizia non era dunque Giovanni Belmonte il funzionario della questura di Udine rimaniamo nel taglio alto e vediamo viaggi all'estero stop ai divieti per rientrare basta un test negativo da oggi per quanto riguarda il covid la regione scrive a Trenitalia ripristinare le frecce per Milano e poi a centropagina vediamo la crisi internazionale le condizioni di Putin che chiede appunto la neutralità dell'Ucraina e la Crimea bombe sulle case a Kharkiv ma la città non si arrende poi la delibera del governo per accogliere la gente in fuga anche a Udine ieri in prefettura c'è stato un vertice un incontro tra il prefetto la Caritas e le altre associazioni che si occupano di accoglienza proprio per cercare di capire come gestire questa situazione quindi l'arrivo di profughi dall'Ucraina sentiamo le parole del prefetto Marchesiello Udine si prepara l'accoglienza di coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina stamattina una riunione con la Caritas com'è andata? No è andata bene ma non avevamo dubbi insomma si sta muovendo molto molto mondo dell'associazionismo dalla Croce Rossa in poi la Caritas sicuramente in prima fila e soprattutto una grande spontanea adesione disponibilità da parte di privati e poi dei sindaci che domani in una riunione che faremo in videoconferenza con quasi tutti i comuni della provincia porteranno la loro disponibilità di alloggi di strutture magari che potrebbero essere messe a disposizione per l'accoglienza di quelli che ovviamente non avendo mete particolari potrebbero rimanere sul nostro territorio ma che hanno poi bisogno di una prima effettiva accoglienza il sistema poi di protezione civile sicuramente ci darà un supporto valido un'emergenza che apre diversi fronti di necessità per esempio la questione delle tante badanti ucraine che vivono nel nostro territorio che magari vorrebbero portare qui le famiglie è un'altra esigenza che emergerà sicuramente perché tante figlie tanti parenti di badanti che sono qui su questo territorio chiederanno la ricongiungimento e quindi ci sarà anche da mettere a disposizione delle strutture alloggiative per queste esigenze sono tante variabili le situazioni buon ultimo ma comunque c'è la gestione delle quarantene su questo ecco la Croce Rossa ci ha messo comunque ci dà disponibilità anche per fare tamponi in maniera molto veloce perché comunque le quarantene adesso da domani sono di 5 giorni dovranno essere comunque gestite con tutti i limiti le situazioni problematiche che ci portano qualche sindaco della regione ha detto utilizziamo le caserme per accogliere queste persone secondo lei è una strada percorribile non direi perché qui stiamo parlando ovviamente senza fare comuni e fasci comuni ma abbiamo delle situazioni molto diverse ovviamente queste strutture qui potevano essere messe a disposizione sempre per grandi numeri ma per la gestione di altre situazioni come quelle della rotta balcanica la cavarzerani in primis ma qui abbiamo bisogno di soluzioni alloggiative molto ristrette nuclei familiari abbiamo dei bambini abbiamo delle donne quindi una situazione sicuramente molto più delicata da curare quindi la macchina organizzativa si è appena messa in moto seguiranno altre riunioni avete già un'idea di quante persone sono arrivate no al momento perché molto impercettibile al momento però sicuramente adesso ci aspettiamo numeri forse importanti su questo questo tempo ci dà un attimo un aiuto andiamo adesso nel taglio basso della prima pagina del messaggero veneto di Udine cambiamo decisamente argomento e andiamo sulle pagine della cultura Pasolini in Friuli le stati a Casarsa luogo dell'anima tante le iniziative in vista del centenario dalla nascita di Pierpaolo Pasolini il 5 marzo del 2022 saranno appunto cent'anni e poi dal primo romanzo di Ilaria Tutti una serie sulla Rai Fiori sopra l'inferno il romanzo d'esordio della scrittrice di Gemona Ilaria Tutti diventerà una serie tv per la Rai con Elena Sofia Ricci nel ruolo della protagonista andiamo adesso sulle pagine interne andiamo sulla prima pagina del fascicolo dedicato alla città di Udine e vediamo che in primo piano ci sono i lavori in Viale Venezia cambia il progetto in Viale Venezia spunta un semaforo scrive il messaggero Veneto di Udine sarà posizionato prima dell'ingresso delle auto in piazzale 26 luglio il cantiere durerà 300 giorni e partirà dopo Pasqua la spesa è di 2,6 milioni il sindaco Fontanini ha detto l'obiettivo è rendere più sicura l'arteria realizzando altre due rotonde dal messaggero Veneto di Udine andiamo adesso sull'edizione di Pordenone dello stesso quotidiano e andiamo a vedere anche qui i titoli principali andiamo subito sul fascicolo di Pordenone oncologia medica torna in città Riccardi Asfo e Cro si parlino il covid allenta la morsa riprese le terapie con il nuovo ospedale la regione punta a un'unica realtà integrata sanità dunque in primo piano in questo caso sul messaggero Veneto di Pordenone sulle pagine interne rimaniamo su questo quotidiano ma facciamo un salto sulle pagine sportive e parliamo proprio di Pordenone Pordenone che oggi scenderà in campo contro la Ternana per onorare maglia e torneo scrive il messaggero Veneto la salvezza sembra irraggiungibile dopo le ultime cinque sconfitte di fila ma società e tifosi si aspettano una reazione d'orgoglio della squadra si gioca questa sera alle 18 e 30 e poi vediamo tutto l'articolo con le parole di Tedino che dice nonostante le difficoltà abbiamo dimostrato di essere ancora vivi a Terni serviranno ritmi alti e velocità dalla pagina dedicata al Pordenone andiamo adesso a ritroso sul fascicolo sportivo andiamo sulla prima pagina dove si parla invece di Udinese dei gol che piovono dalla panchina l'Udinese in questo è prima con Udogi sono nove le reti segnate da giocatori entrati in corso durante appunto la gara Inter e Atalanta ne hanno fatti altrettanti con una gara in più nove quindi le reti delle rissegnate dalle riserve bianconere c'è una statistica nella quale l'Udinese prima una statistica che è incoraggiante per una squadra che dovrà sgomitare da adesso fino alla fine del campionato per timbrare la salvezza quella dei gol che arrivano dalla panchina nove in tutto il campionato come l'Inter e l'Atalanta che tuttavia hanno ben altro potenziale offensivo e hanno anche disputato una gara in più dei bianconeri e questo è l'articolo di apertura del messaggero Veneto di oggi poi vediamo il calendario ieri sono stati diffusi anticipi e posticipi di altre due gare di campionato la Roma il 13 anticipo a Napoli i recuperi verso aprile quindi l'udinese riceverà la Roma a Udine domenica 13 marzo alle 18 e poi andrà al Maradona di Napoli sabato 19 marzo alle 15 queste dunque le novità per quanto riguarda il calendario rimanendo sulle pagine del messaggero veneto andiamo anche sulle pagine dedicate al basket dove troviamo un'intervista a Demis Cavina che per quanto riguarda la palla canestro Udine o più in generale il campionato di A2 e Cavina si sbilancia sono Udine e Verona le grandi favorite per il salto in serie A lei si è fortissimo dalla sensazione di avere sempre tutto sotto controllo in due mesi è stato tirato a lucido chiudiamo il messaggero veneto e andiamo a vedere velocemente anche le pagine sportive del Gazzettino per quanto riguarda la palla canestro Udine vediamo Old Wild West il primato di Lacey e Cappelletti con 33 punti la coppia d'oro conquista Torino il cecchino tanta emozione ma sono stato contento di tornare da ex e poi invece andiamo a vedere anche l'Udinese Pablo e Peres i due mastini della difesa il giovane argentino Pablo Maria e l'ultimo acquisto garantiscono solidità al reparto dopo la cessione di Samir e l'infortunio di Noitin scrive il Gazzettino e poi vediamo la pareggite che arriva quota 11 sei volte imbattuti con le grandi solo il Genoa ha diviso la posta in più occasioni rispetto ai bianconeri altre analisi sugli numeri di questa stagione dell'Udinese e poi vediamo Cioffi Battegotti e va in doppia cifra per l'ex vice ci sono dieci punti in nove gare con una media migliore del predecessore nonostante l'epidemia causata dal covid la compagine bianconera si è fatta rispettare ancora vediamo per quanto riguarda il Pordenone i neroverdi a Terni per un solo risultato dietro non ci sarà il capitano Barison e anche Cambiaghi appare in forte dubbio Tedino Avvisa servirà un buon ritmo e poi anche qui abbiamo tutto l'articolo che ci presenta la gara di oggi tra Ternana e Pordenone Candellone e Mensacchi amati a dare profondità al gioco contro la formazione di Lucarelli andiamo a vedere anche le prime di Corriere dello Sport e Tutto Sport per chiudere la nostra rassegna stampa Napoli vola e Sogna scrive il Corriere dello Sport questa però è la prima pagina dell'edizione di ieri allora andiamo a vedere Tutto Sport che a centropagina mette una foto di Vlaovic all'assalto di Baggio il bomber punta il record del Codino che al debutto nella Juve aveva segnato sei gol in sette partite Dujan è a quota quattro in sei domani sera Fiorentina Juve di Coppa e a proposito di Coppa vediamo è tornata la Milano da bere scrive il Tutto Sport a proposito della semifinale di questa sera Dea dedicato a Malinowski è quattro a zero contro la Samp e poi nel taglio alto lo Sport cancella la Russia FIFA e UEFA finalmente dalla parte degli Ucraini dice Exave Iacobelli la FIFA esclude la nazionale dagli spareggi mondiali l'UEFA sospende i club dalle coppe Eurolega ed Eurocup fanno altrettanto nel basket e il CIO chiede alle federazioni di non invitare atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali e con questa notizia siamo ritornati alle news con le quali abbiamo aperto questa nostra rassegna stampa con gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano appunto dalla Russia ecco qua la foto del maxiconvoglio russo che avanza verso Kiev che troviamo ancora in questo momento in primo piano sul sito dell'agenzia ANSA siamo in chiusura e allora come sempre vi ricordo gli appuntamenti principali di questo martedì sul nostro canale noi ci rivediamo alle 12 in diretta con l'informazione alle 15 pomeriggio calcio alle 16 il TG del pomeriggio alle 17 e 15 vi proporremo la gara di calcio tra Udinese e Lazio alle 19 il TG della sera seguito dal TG Sport alle 19 e 30 alle 19 e 45 il TG News Pordenone alle 21 basket a nord-est e a seguire alle 21 e 45 Pordenone tonight alle 22 e 30 l'ultima finestra dedicata all'informazione con il TG della notte ci fermiamo qui per il momento vi lasciamo alle previsioni del tempo grazie per la vostra attenzione ancora buona giornata a tutti un saluto agli amici di Udinese TV e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo martedì che vede un impulso di aria fredda proveniente dai Balcani interessare la nostra penisola ma che avrà pochi effetti sul friuli Venezia Giulia giornata quindi di bel tempo con ampi spazi soleggiati temperature però contenute vediamo nel dettaglio la situazione sulle province di Pordenone Udine beh poco da segnalare ci attende infatti un martedì all'insegna del bel tempo con ampi spazi soleggiati in un contesto asciutto temperature minime anche prossime o al di sotto dello zero proprio per l'arrivo di aria fredda proveniente dalla Russia attenzione a qualche gelata tra notte e mattina massime che toccheranno i 10-11 gradi situazione analoga sulle province di Gorizia e Trieste quindi ampi spazi di sereno in un contesto asciutto temperature che potranno scendere anche al di sotto dello zero a Gorizia nella notte massime che toccheranno i 10-11 gradi per dettagli maggiori scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo Grazie a tutti